Giunta la sua quinta edizione, ritorna Story Rider, la manifestazione che trasforma Torchiara nel paese delle storie con ospiti d'eccezione. La Kermesse, ideata da Angela Riccio, gote del patrocinio del comune di Torchiara, della provincia di Salerno, della regione Campania e del Parco Nazionale del Cilento. L'anteprima dell'evento si terrà a Palazzo Baronale dei Concilis di Torchiara venerdì 30 agosto a partire dalle ore 18. Dopo l'anteprima, dal 4 al 6 ottobre, si darà ufficialmente il via ai molti incontri letterari e al laboratorio di scrittura, alla premiazione dei racconti inviati al concorso Common People, a proiezioni cinematografiche e a molto altro e per tre giorni il Borgo di Torchiara si trasformerà in un luogo di stimolo e di confronto culturale. Siamo qui nel salotto di Borgoriccio perché proprio da qui che è partita cinque anni fa l'idea di trasformare Torchiara nel salotto delle storie. Quindi non solo Borgoriccio ma anche il Palazzo Baronale, la Piazza Torre, la Colombaia, di volta in volta trasformiamo gli angoli più suggestivi di questo paese bellissimo nel salotto delle storie. L'anteprima quest'anno racconterà la storia di sei artisti e la storia di sei installazioni perché da Story Rider parte un nuovo progetto, percorsi d'arte contemporanea, sei artisti realizzeranno gratuitamente e offriranno a sei comuni del Cilento interno le loro installazioni permanenti, cosicché si costituirà un nuovo percorso che correrà parallelo lungo il mare in tutti questi comuni. Da cinque anni ci supporta il Parco Nazionale del Cilento, ci supporta la banca dei comuni cilentani da sempre al nostro fianco, ci ha sostenuto anche l'unione dei comuni cilentani, da quest'anno partecipano anche la SICME che è una società che produce energia qui in zona, Convergenze e soprattutto Santo Miele che è un'azienda di grandissima grandissime eccellenze. Noi siamo molto onorati di questi contributi che ci permettono di fare le cose sempre meglio e sempre con più visibilità. Il clou dell'evento si terrà però in ottobre, sempre per questa destagionalizzazione turistica che è un po' un must per Story Rider. Sì perché tutta la nostra attività, noi abbiamo fondato un'associazione culturale che si chiama Ergo South e l'associazione si propone di proprio valorizzare e incrementare tutte le tradizioni, la cultura, tutto questo grandissimo patrimonio ancora purtroppo poco conosciuto rispetto alle sue potenzialità. Quindi da Story Riders partiamo con percorsi d'arte contemporanea. Quest'anno abbiamo pensato di spostare la data diciamo del cuore proprio della manifestazione dopo l'anteprima al 4, 5 e 6 ottobre. Come sindaco di Capaccio Pesto ben volentieri ho dato l'adesione per la prima volta della città di Capaccio Pesto ma in un progetto che conosco benissimo. D'altra parte le mie origini sono di Torchiara, in questo palazzo baronale che mi è caro perché da sindaco ho partecipato al recupero, quindi ho dato il mio interesse, la mia passione, la mia forza anche quando ero sindaco a farlo. Angela Riccio ha avuto questa grande intuizione che ormai si è allargata a gran parte dei paesi del nostro Cilento, questa bella manifestazione, questa bella iniziativa che si allarga, cresce la cultura, cresce il turismo e cresce il territorio. Sono arrivata ieri sera, ho visto per la prima volta questa piazzetta ieri sera e mi sono un po' trattata in questa piazza verso le 11 ieri sera e ho visto che questa piazzetta è molto bella, ben proporzionata con un pavimento di pietre naturali e la piazzetta è già bella per sé e ho pensato se io faccio un intervento, questo intervento deve sottolineare la piazza, non deve disturbare la piazza. Io vorrei aggiungere qualcosa, questo mi farebbe molto piacere, forse un'installazione molto fine però visibile che ha anche un connex alla storia e anche al tempo però dà anche un compito per il futuro alla nostra generazione e ai prossimi generazioni.